Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, video brevissimo come vedete anche dall'inquadratura non sono nella mia camera ma sono nello scavuzzino perché nella mia camera e sono pure in piedi nella mia camera raga c'è, ci sono i miei fratelli che stanno giocando un po' alla play stanno editando i video per il loro canale, aspettate raga aspettate solo qualche minuto quando sistemo un po' l'inquadratura così potete vedere anche la maglietta di King Queen personalizzata chi raga ha sistemato, diciamo un po' sistemato l'inquadratura, questa comunque è una maglietta personalizzata di King Queen stavo dicendo che stanno editando i video per il conto loro e quindi sono venuto qui nello scavuzzino a fare questo video brevissimo, tritando questo video, vi potrà sembrare una cosa proprio proprio di merda detto così all'italiano, una cosa di merda ma però, ma però non si può dire però è un video saluti, difatti qua ho un fogliettino fogliettino dove sta tutte le persone di instagram, che si sono iscritte a mio proprio instagram che lo ripeto per chi è nuovo e non si iscrive ed è King trattino basso Queen trattino basso 1713 e poi iscrivetevi anche a questo canale, lasciate un mi piace, un commento sotto e volevo dire un'altra cosa, ok quindi come vedete logica perché ci sono solo io quindi sta a casa a fare i servizi è perché lei è femmina a fare i servizi, quindi faccio solo io il video ma non vi preoccupate non vi sto io per voi che faccio i video, non vi preoccupate come vedete la linguatratura allora lì in fondo, non lo provate a fermare è sfugata questa scopa, questa scopa però la mettiamo via, così non mi dà fastidio guarda le cange, c'è già le bande, andiamo col video allora, andiamo prima con quelli di Instagram, i nuovi iscritti di Instagram il primo che voglio salutare del nostro profilo Instagram è Bernal Lopez mia sorella, Bernal Lopez è iscritto, se lo saluto se lo puoi si arrabbia poi Michele Medaino, merda, no scusa, scusa, lo voglio risultare, Medaino qui abbiamo Francesco Manupelli, qui abbiamo Virgi Super14 poi abbiamo Vanessa Cosentino, poi abbiamo Michele Ibiza 15 poi abbiamo Anna Pia, poi abbiamo Virgi Queen 12 e poi abbiamo Angelita Saccottelli e questi sono di Instagram, sono 9 nuovi iscritti del mio profilo Instagram poi un nuovo iscritto del canale YouTube King Queen e che mi ha detto sotto nei commenti mi saluti e si chiama Tresi Violano saluto Tresi Violano Queen non c'è, riferete a Tresi Violano perché Tresi Violano è l'amica di Queen Queen non c'è, ma ti saluta pure lei a parte farò un video con Queen oppure metterò un post sopra Instagram mi raccomando seguitemi su Instagram dove Queen vi saluta a voi sto parlando da 3 minuti e 54, 55, comunque raga facciamo questa challenge io da solo, sì io da solo faccio le challenge raga, io però ho tolto la scopa di là compasso un'altra scopa? aspettate vediamo se trovo questa ah, questa è il pastore del monologio ah, ok, ok mi sono spaventato raga perché ho visto una scopa di Torino Air perché io l'avevo tolta e ce l'ho qui a pianto e ho visto un altro pastore là ed è il pastore del monologio che non usa quello comunque raga, stavo dicendo facciamo una piccola challenge io da solo faccio le challenge da solo voi dite, come cazzo, come le fai, scusate la parola come le fai a fare da solo le challenge? è semplice non la faccio in questo video ma ve lo dico ve lo dico, voi mi dovete scrivere sotto nei commenti di questo video che uscirà sul canale mi dovete dire se volete questa challenge dove io o Queen ci faremo dei quiz sul calcio io per esempio le domande sul calcio le farò a Queen e Queen mi farà le domande del programma che piace di più a lei no, aspetta mi sto un po' confondendo allora lei mi farà ovviamente le domande sul calcio e io farò le domande a lei sul programma televisivo che le piace la challenge in che cosa consiste? ce l'ho proprio qua la challenge in che cosa consiste? se io mentre lei mi fa la domanda io la sbaglio dovrò mangiarmi un certo numero di di ora ve lo faccio vedere di croccantini per il cane dovrò mangiare un certo numero di croccantini per il cane sarà un video da vomito la stessa cosa e viceversa io faccio una domanda a lei la sbaglio dovrò mangiare un certo numero di croccantini poi ci pezzerò un numero e nel video se a voi piace se vedo sotto nei commenti mi sta graffiando un po' la gola perché non darmi cosa bere l'acqua comunque non fa niente continuo il video se a voi vi piace questa challenge e volete che io la porto la porto sul canale non fate altro che o scrivetemi scrivetemi sul mio profilo instagram o sotto nei commenti a questo video o ai video precedenti porterò questa challenge questa challenge vi dico solo che sarà una cosa assurda niente raga però un attimo solo fatemi vedere chi sta nel bagno nel bagno nel bagno non c'è nessuno si sente l'acqua di fatto che no raga se non muovi strani comunque questo video io lo posso concludere qua dal vostro king è tutto quindi non c'è ma dal vostro king è tutto io vi do un bacione un abbraccione mi raccomando fatemi sapere se vi piace questi scusate raga ma è entrata mia nonna a tenere una cosa se volete il video challenge dei croccandini del mio cane che facciamo questo quiz io e Queen che ci facciamo le domande lei mi fa le domande su un programma una serie tv preferita scrivetemelo sotto nei commenti e scrivete anche in anticipo secondo voi chi è il vincitore secondo me raga io vi direi che vinco io che sul calcio so tutto e non so lì non so lì perché pesco un programma televisivo molto molto brutto e iscrivetevi al canale commentate se non è questo commentate se volete attività di questo genere dei saluti dove saluta a parte oggi vi ho salutato solo io ma la prossima volta ci sarò qui la maglietta è questa qui King Queen è una maglietta personalizzata usciranno anche per voi usciranno li vado a fare più avanti niente raga ci becchiamo al prossimo video ciao 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 ciao